Il nuovo modo per fare business Secondo incontro in presenza per un evento di network marketing in un sabato autunnale Grandissimi input fin dall'inizio Ciro Orlando e Fabio Lauria ci hanno dato una visione di successo insolita che non riguarda solo l'aspetto economico bensì il successo riguarda come gestiamo la nostra vita in ambito quotidiano Hanno iniziato col botto e hanno detto cosa diciamo a tutti quelli che ci dicevano che non siamo portati che non era per noi a tutti quelli che ci dicevano che eravamo dei falliti Quando te lo dicono tu cosa fai? Queste persone che hanno sempre creduto in noi Fabio Non fotografare Non fotografare E sapete cosa gli dici? E sapete cosa mi dico? Mi deve proprio guardare Sapete cosa gli diciamo noi? Cosa gli dice Ciro? Ma cosa diciamo? Ovviamente diciamo tutti a queste persone ragazzi Cosa diciamo? Cosa diciamo? Mandiamo un bel messaggio Ma voglio far sentire la testimonianza di cos'è il successo nella vita quotidiana E come tu puoi sconfiggere quei pregiudizi, quelle false dicerie che porti dentro di te da una vita Andiamo ad ascoltare tutto ciò dai veri protagonisti di questo evento in presenza Siamo qui con Sebastiano Salomone e con Fabrizio Franzoni Abbiamo ascoltato prima Sebastiano sul palco che ci ha raccontato come da un suo fallimento lui è riuscito a farne un successo Allora capiamo assieme a lui il mindset che l'ha aiutato a fare questo Sì esattamente Praticamente il fallimento è come scendere giù al fondale, toccare il fondale e risalire Quindi ora rimani sotto e in apnea finché se rimane troppo in basso poi si rischia di annegare praticamente Io in questo caso ho preso la risalita anche velocemente grazie a una società che mi ha permesso attraverso il network marketing di avere successo in poco meno di un anno E ottenere la libertà finanziaria in maniera anche semplice, semplice nel senso che niente c'è di semplice Però se si rispettano le direttive aziendali si usa molto la mentalità, quindi tutto basato sulla mentalità si possono ottenere risultati incredibili Quindi ognuno di noi ha delle potenzialità nascoste che nessuno sa di avere Basta solo approfittarne e così riprendere il fiato e salire a galla Grazie intanto Sebastiano, con Fabrizio raccontiamo come lui, cioè come Sebastiano è il tuo sponsor Ovvero ti ha contattato lui, ti ha dato l'opportunità di entrare nel network marketing Allora ci racconti com'è andata? Certo, molto volentieri Devo dire che Sebastiano prima di tutto è diventato un grande amico perché è una persona umanamente molto speciale Non è stato lui a contattare me, in verità ero io che cercavo inizialmente un asset su cui spostare il mio capitale Per essere più sicuro, cercavo nella fattispecie oro fisico di investimento E nel cercare addirittura all'inizio stavo vedendo qualcosa all'estero ma poi ho detto no perché devo andare fuori Quando possiamo avere in Italia qualche azienda che potrebbe garantire tutto quello che potrebbe darmi un'azienda che sta fuori Un giorno così stavo online senza neanche cercarlo, mi è uscito un post di Sebastiano E guarda caso l'azienda di cui facciamo parte è nella provincia di Verona dove io abito Quindi ho detto ce l'ho dietro l'angolo e neanche lo sapevo Ho contattato Sebastiano e lui subito ha voluto conoscermi di persona perché l'azienda sia un network marketing Ma le consulenze le facciamo anche di persona per chi ha la possibilità di essere vicino L'ho voluto conoscere di persona perché all'inizio siamo tutti un po' scettici Allora ho conosciuto lui, ho visto anche la sede fisica insomma Mi sono subito innamorato dell'azienda del prodotto Ho voluto subito fare il mio piano personale Quindi sono entrato in azienda inizialmente come cliente Poi piano piano, grazie all'aiuto anche di Sebastiano, devo ammettere che è una persona fantastica Mi ha aiutato personalmente nella crescita Adesso mi trovo piano piano dietro di lui in questa scalata Voglio dire, spero, più veloce possibile verso il successo Quello soprattutto personale, non tanto quello economico ma quello personale Le soddisfazioni personali Guarda, mi è piaciuto che tu hai detto che lui è una persona speciale Quindi quanto conta l'umanità nel network marketing? Secondo me è la cosa principale Dal primo posto vanno i valori umani Quello di stare con la gente, di condividere insieme tante cose Al di là dell'aspetto economico Poi il resto viene da sé secondo me Quindi eventualmente per saperne di più contattateli E parlate direttamente con loro Siamo qui con Cosimo Notar Stefano e Lorena Guarino Coppia nella vita e nel lavoro Adesso ci racconteranno un po' più di loro Allora iniziamo stranamente dalla parte maschile E ci facciamo raccontare così da Cosimo La sua ascesa, è proprio il caso di dirlo Di questi ultimi anni E come mai a volte magari ci mettiamo un po' Per prendere informazioni e anche per decidere Buonasera a tutti e intanto grazie per l'invito È un piacere essere intervistato Perché poi non capita tutti i giorni Beh, per quanto riguarda la mia crescita Diciamo che c'è molto scetticismo Soprattutto nel campo finanziario Quindi delle volte lo scetticismo blocca la nostra crescita Bloccando la nostra crescita noi non progrediamo E quindi non prendiamo informazioni Inerente a quello che ci interessa Poi diciamo che la crescita è vita Se noi cresciamo riusciamo a condividere Quello che ci appassiona E quello di cui noi abbiamo un interesse Credo sia fondamentale Perché poi continuando ad avere delle competenze E noi condividiamo con passione Quello che facciamo in prima persona Quindi questo io credo sia fantastico Adesso sentiamo l'altra metà di Cosimo Lorena che ci racconta com'è essere uniti nella vita e nel lavoro Buonasera a tutti Allora, noi condividiamo tantissime cose Soprattutto anche parte del nostro lavoro Siamo entrambi due ballerini e insegnanti di ballo E quindi spesso, sempre, stiamo insieme E quindi collaboriamo appunto per questa attività Quindi tra alti e bassi Perché comunque capita anche mentre si lavora Comunque di avere non sempre delle opinioni concordi Però comunque credo che sia fondamentale avere una persona accanto Che condivida le stesse passioni Anche parte anche del lavoro Perché dà molta più, come dire, fiducia E valore spesso anche in quello che si fa Incuriosiamo un pochino Adesso a breve Uscirà anche l'intervista un po' più lunga Con Cosimo, nota Stefano E quindi ci racconterà un po' di più della sua vita Delle sue varie carriere Dei suoi lavori E naturalmente non potrà mancare La nomination della sua dolce metà Siamo qui con la famiglia Orlando Valeria e Ciro Come vedete le loro due bellissime bambine Che dopo non si dica Che chi ha figli non può fare network marketing Ecco, ricordiamo la nostra intervista con Ciro Vi invitiamo a riandarvela a vedere E anche nella nostra intervista Era un po' più seria di questa Questa è più attinente alla vita vera però Adesso da papà Ciro Facciamo raccontare perché impatto devastante E la storia un po' di impatto devastante Nei valori e nell'atteggiamento Beh, intanto grazie per Network marketing Abbiamo anche i disturbatori Questa è la vita quotidiana ragazzi Perché dobbiamo imparare Comunque a gestire anche le difficoltà Quindi abbiamo i disturbatori Che ci mettono alla prova Un pochettino Impatto devastante è lei È quella che sentite adesso Impatto devastante Ecco, vedi Impatto devastante nasce Nasce proprio Dalla nostra visione Dalla nostra visione Che abbiamo avuto Nelle nostre vite E lo abbiamo voluto Trasmettere anche alle altre persone Quindi è nato per quello Perché quello che ci sta dando a noi Risultati E risultati Abbiamo voluto proprio Condividere con tante persone Quindi vogliamo impattare In maniera importante In modo devastante Come fa quella lì Ci spieghi meglio Quello che raccontavi Prima sul palco Ovvero visione Compromesso Disciplina Obiettivo Leadership Tutto questo Ci è voluto Per costituire E anche portare avanti Impatto devastante Ci spieghi un po' Soprattutto nell'atteggiamento E beh, è chiaro Tutto nasce da una Da una visione Tutte le più grandi opere Le più grandi Le più grandi aziende Sono nate da una visione Quindi senza di quella Non possiamo noi poi Andare a lavorarci sopra Con il compromesso Abbiamo fatto visione Compromesso Perché per raggiungere Determinati obiettivi Dobbiamo comunque Fare un compromesso Con noi stessi Cosa siamo disposti Noi a dare in cambio Al successo Che tanto bramiamo Che tanto vogliamo Io ho sempre una frase Che la dico spesso Che è Tutti vogliamo Il paradiso Tutti vogliamo andare in paradiso Ma nessuno vuole morire Noi abbiamo avuto risultati Lo condividiamo Con tante persone Cercando di trasmettergli Quello che gli può dare Nel punto di vista Proprio nella qualità Della vita Sentiamo da Valeria Moglie di Ciro E mamma di Emma Irene Cosa ha portato di diverso Rispetto a prima Al network marketing E un po' Se ci raccontate anche Della vostra storia Della vostra routine Da quanti anni siete assieme Ad esempio Noi siamo insieme Noi siamo insieme da più di 15 anni Ormai Siamo sposati da 11 E già un'esperienza positiva Del network marketing È stata festeggiare insieme A uno dei congressi di Ciro Perché l'ha fatti in concomitanza Con il nostro decimo anniversario Di matrimonio Viaggiamo un sacco Conosciamo tantissime persone Condividiamo esperienze di vita Nostre e con altri E sono sicuramente cose positive Per tutta la famiglia Siamo qua con Federico Spegni Cosimo ormai lo conosciamo Federico è un incaricato di Cosimo Loro condividono proprio La passione del ballo Adesso sarà Federico A raccontarci un po' meglio La sua storia Nel network marketing E non solo Cosa ti è piaciuto di oggi E magari anche l'amicizia con Cosimo Insomma Come ti ha contattato così Niente Intanto buonasera a tutti Ho conosciuto Cosimo Tramite il ballo Dove condividiamo Una passione ormai Da anni Dico Un giorno mi chiama Per telefono Mi dice Guarda ho una cosa da proporti Che potrebbe essere Per il futuro Di te e dei tuoi figli Loro dico Bene Cosimo Io non ci sono problemi Ti ascolto E niente Da questa cosa È nata un rapporto Oltre che il ballo Amicizia profonda Dove veramente Si cerca di aiutare Le persone Che è la cosa Penso la cosa più importante Perché in questo momento Si è perso un po' Il modo di approcciarsi Con le persone E quindi È nata questa nuova Adesso la posso chiamare Anche attività Dove mi sta dando Veramente delle soddisfazioni Il quale dopo Mi ha fatto conoscere Due fantastici Persone Che si chiama Ciro Orlando E Fabio Lauria Dove loro effettivamente Fanno questo di lavoro E anche Mi hanno proposto Di diversificare Il nostro portafoglio Quanto vale oggi La diversificazione Del nostro portafoglio Siamo nel mondo storico Perché sappiamo Il momento critico Che stiamo passando A livello finanziario Ma dal momento critico Possiamo anche Giovare di tante situazioni Che ci sta dando Il mondo finanziario Perché non possiamo più pensare Che il mondo finanziario Che c'era 20 anni fa Anche lì C'è stata in evoluzione Come in tutte le cose Ci sono state In evoluzioni L'importante È sempre sapere Dove stiamo andando Il nostro obiettivo E dobbiamo porcelo Anche a questo obiettivo Non conta Se ci arriviamo In un mese Due mesi Tre mesi Due anni Tre anni Ma dobbiamo arrivare E perlomeno Cercare di arrivare Vicino all'obiettivo Che è la cosa più importante Per avere anche Una prospettiva In un futuro Per i nostri figli E anche per la nostra famiglia Quindi libertà finanziaria Siamo qui con Fabio Lauria Grazie intanto Di aver accettato Già Ciro Orlando Nell'intervista Parlava di lui Assieme a lui Ripercorriamo i suoi inizi Nel network marketing E della visione Che spesso si ha Del network marketing E da cosa Questa è scaturita Guarda Io l'ho vissuto Anche da fuori Il network E credo che Il network marketing Non viene visto Di buon occhio Non per le aziende Che ci sono Dietro al network marketing Ma viene Viene Visto Non di buon occhio Per le persone Che lavorano Dietro al network marketing Lo abbiamo visto oggi Come abbiamo iniziato noi Io da neofita Di questo mondo Perché non conoscevo Questo mondo Ho scelto male Lo sponsor Non ho scelto male L'azienda Ho scelto male Lo sponsor Lo sponsor Non mi ha saputo Istruire Sui passi da fare E ho fatto Degli errori Degli errori Risultando anche Incompetente È importante Scegliere lo sponsor Il team giusto Le persone giuste Che lavorano Con una certa etica Perché credo Che questo sia Sia fondamentale La mia esperienza All'inizio È stata negativa Però Ho visto Una visione Ho visto che Comunque era un mondo Che poteva darmi tanto E sono andato Poi alla ricerca Io Delle persone Che mi potevano dare Credo che Il segreto Di fare Un buon lavoro Nel network marketing Soprattutto iniziale Deriva proprio Da che team Scegli E da che persona Scegli Che ti segue In questo percorso Successo Va a braccetto Con fallimento Una cosa Molto utile Messa in evidenza Oggi È La mentalità Del fallimento Abbiamo ascoltato Varie testimonianze Di come un fallimento Può essere Trasformato In successo Quindi è necessaria Proprio una mente Per sostenere Tutto ciò Proprio Un cambia mente Altra cosa importantissima Messa in evidenza È Agire oltre Il proprio parametro Fare Quello che non hai mai fatto Attenzione Che network marketing È stato messo in risalto Anche oggi Non significa Soldi facili Bensì Il network marketing È un business A medio Lungo termine Ricordiamo anche Cosa ci insegnò Ciro Orlando Nell'intervista Impariamo a ragionare Di cinque anni In cinque anni Poi Marco Montemagno È sempre con noi Perché anche oggi È stato citato Proprio un suo video In cui parla Dell'importanza Dei piani di accumulo Il mio invito È quello Di iscrivervi tutti A questo canale Di Luciano Network Cambiamente Che è un canale Di informazione Network marketing E quello che manca È proprio l'informazione L'informazione Praticamente serve A far crescere Ognuno di noi Perché una persona Che non è informata È assente Non esiste Perché rimanere Nell'ignoranza È qualcosa di Purtroppo Che sta apprendendo Molto in questo momento Attraverso i mezzi Di comunicazione Sbagliati Possiamo usare La tecnologia Possiamo usare I video Possiamo usare Qualsiasi cosa Affinché la persona Si possa formare Quindi iscrivetevi A questo canale E siete sicuri Di rimanere Sempre informati Sul network marketing Un abbraccio a tutti Bene ragazzi Ora vi faccio Un invito A seguire Una persona speciale Che è Luciana Network Cambiamento Vi propongo Di iscrivervi A Luciana Network Cambiamente Mi raccomando Seguite Il canale Invito tutti voi Ad iscrivervi Al canale YouTube Ti aiuta Nel mindset E io credo che il mindset Sia una delle principali cose All'interno del mondo Del network Quindi iscrivetevi In massa Potremmo collegarci Su YouTube Puoi iscriverti A questo canale E a quello Luciana Pellizzato Cambiamente Attivando La campanella Entrambi trattano Un argomento cruciale L'atteggiamento LinkedIn Puoi chiedermi Il collegamento Magari con una breve nota E seguire I miei due Hashtag Cambiamente E educatrice Networker Infanzia E network marketing Sono collegati Infatti A filo doppio Con quell'atteggiamento Potenziante Che crea comportamenti Funzionali Indipendenti Dai settori Su Instagram Divertenti Reel Al profilo Luciana Punto Pellizzato Trovi anche Il partner Commerciale Scelto Perché potresti Volerlo conoscere Ti ricordo inoltre La newsletter Luciana Pellizzato Cambiamente Cliccando Al link In descrizione Puoi compilare Il form Per ricevere Ogni due settimane Questa newsletter Sia su LinkedIn Sia nei due canali YouTube Puoi trovare Le interviste In cui dialoghiamo Con mamma e papà Networker E professionisti Dell'educazione Ci vediamo Tra due settimane Con un nuovo video E la relativa Anteprima Iscrivetevi A Luciana Networker Cambiamente Iscrivetevi A Luciana Networker Cambiamente Yeah Vai Così 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 Così